Buonasera a tutti amici sportivi, migliori in campo fra la partita fra Sporting Reality e The Gladiators qui abbiamo il nostro Derrico Piero, la tua situazione è cessa, un poker che finalmente è arrivato e soprattutto è arrivata la prima vittoria Sì, buonasera innanzitutto, dopo due sconfitte finalmente è arrivata la prima vittoria Potevamo fare molto di più, abbiamo preso un po' troppi gol, ma la pazienza è andata così, va bene la vittoria Ti aggrappi ai molti gol, effettivamente la vostra difesa è stata bucata più volte finora in questo torneo quindi forse dovete registrare qualcosa dal punto di vista difensivo, però dal punto di vista offensivo e soprattutto nella costruzione del gioco, un gioco più fluido, manovre, forse imparate a conoscervi meglio Io credo che dobbiamo sistemare solo la difesa Quello sicuramente, per il resto, gli avversari per certi aspetti vi hanno dato comunque del filo a torcere riusciamo a trovare, forse appunto per la difesa, riusciamo a trovare facilmente lo specchio alla porta e quindi a tirare e ad impensiervi particolarmente Sì, sì, questo è vero, comunque è stata una bella partita anche dal punto di vista sportivo è stata una grandissima partita e ringrazio tutti, anche l'abito è stato un grande abito è abitrato molto bene Detto questo, per finire, questi tre punti cos'è? Vi rilanciano verso il successo, verso la sperata vittoria finale? Oppure pensi che ancora comunque c'è molto da lavorare e forse le vostre aspettative sono un po' contenute dopo le prime due sconfitte? C'è un po' da lavorare ma ci rilanceranno sicuro queste due sconfitte Bene, allora a te il primo come migliori in campo, ecco a te Grazie Ringraziamo ancora D'Arrico per la sua partecipazione, dal Tonor Copeleno è tutto e alla prossima Ringraziamo ancora D'Arrico per la sua partecipazione, dal Tonor Copeleno è tutto e alla prossima